Il lavoro è un diritto costituzionalmente garantito, ma di lavoro si muore di frequente, come dimostrano i dati diffusi dall'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro. È quanto affermato stamani a Pescara il Vice Presidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, nel presentare la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, norme in materia di tutela e prevenzione dei rischi di caduta dall'alto, di cui è il primo firmatario. Secondo quanto reso noto da Pettinari, solo nel 2018, in Abruzzo, sono stati certificati oltre 12.000 infortuni, dei quali 19 mortali. Questa proposta prevede che il lavoratore che opera in quota, quindi a 2,5 metri su un piano stabile, debba dotarsi di sistemi di ancoraggio, salvavita o sistemi similari di protezione da caduta dall'alto. Si è approvata la norma, diventerà obbligatorio, aggiunto ancora Pettinari, le imprese dovranno realizzare questi sistemi per ottenere le dovute autorizzazioni. La Regione, ha ricordato infine l'esponente del Movimento 5 Stelle, può avvalersi dei sistemi esistenti per fare informazione e prevenzione contro gli incidenti sui luoghi di lavoro. Se viene approvata questa norma, io ritengo che si possano limitare molti incidenti sui posti di lavoro. È una norma doverosa per salvaguardare la vita dei tanti lavoratori e dei tanti operai della nostra Regione. Sistemi di ancoraggio che, come ricordava lei, saranno utili anche in una successiva fase, quella della manutenzione. Sì, perché non sono movibili, sono sistemi di ancoraggio che rimangono lì e quindi chiunque dovesse tornare ad operare sull'edificio, sia l'antennista, l'elettricista o il muratore, può usufruire di questi sistemi di ancoraggio che rimangono lì fissi e quindi lavorare in sicurezza, perché per noi la sicurezza del lavoratore sta al primo posto.